La Paramount Pictures starebbe pensando a un documentario musicale in 3D su Katy Perry. La clamorosa notizia arriva dall'Hollywood Reporter che grazie ad una fonte vicina alle parti è venuto al corrente della trattativa. La major cinematografica avrebbe preso come modello Justin Bieber, Never Say Never, la pellicola musicale sul piccolo re del pop statunitense che impatri ha sbancato il box office incassando addirittura più di attestità il docufilm su Michael Jackson. Spezioni di concerti misti a video di backstage e a spaccati di vita privata. Un progetto che entusiasma Katy negli ultimi giorni al centro delle notizie di gossip e il suo recente divorzio dal marito Russell Brand. Un'iniziativa che potrebbe aiutare Katy a superare la delusione amorosa. La trattativa è ancora lo stato iniziale, nessun regista è stato contattato ufficialmente, ma entrambe le parti, stando a quanto riportato dalla fonte del giornale americano, avrebbero intenzione di mettere a punto i dettagli del film.